Ovviamente è entrato questo ragazzo che era chiaramente sotto, secondo noi, l'effetto di sostanze superfacenti ed era per quello che si grattava, non di certo per, ha detto sì malattia, malattia, ma evidentemente aveva bisogno di qualche farmaco, ha iniziato a avere dei comportamenti fastidiosi perché poi si voleva abbassare i pantaloni, vabbè robe di ordinaria amministrazione, nella tranquillità sono stati chiamati i carabinieri, lui nel frattempo è andato via, ma non è che ci siano state minacce, ha fatto un po' di show, ma proprio sotto l'effetto di sostanze superfacenti, finita così insomma, così è finita.